Dietro una grande squadra c'è sempre una grande società. Il Pado ha avuto la fortuna di avere due grandissimi dirigenti negli anni d'oro, gli anni che hanno riportato i biancoscudati in Serie A. Il primo è stato Marino Pugina, che è stato a lungo presidente del Pado, un presidente sempre molto presente, ma sempre molto misurato anche nelle dichiarazioni. Lo ricordo nella drammatica sconfitta di Lucca, che sanzionò la mancata promozione del Pado a quell'anno, era il 91. Il presidente, nonostante ci fossero tutti i motivi per essere rammaricati e per esprimere anche qualche dubbio su quello che era accaduto in campo e non solo sul campo di Lucca, perché la lucchese giocò col coltello tra i denti senza avere più nessun interesse, la reggiana invece fu molto più morbida con l'ascoli, tutte cose che sappiamo che abbiamo già affrontato in passato. Bene, il presidente, lo ricordo, seduto nel caldo di Lucca in sala stampa, risponde alle domande dei giornalisti dicendo evidentemente se non siamo andati in Serie A è perché non l'abbiamo meritato. E quella fu una dichiarazione di un grande presidente che non a caso poi continuò a impegnarsi per cercare di riportare il Pado a in Serie A, cosa che poi gli riuscì tre anni dopo. Accanto a lui, prima come amministratore era legato successivamente, dopo l'uscita di scena di Marino Pugina come presidente, ci fu Sergio Giordani, l'attuale sindaco di Padova. Io ricordo di Giordani, ho la prima immagine chiara che ho in mente, quella del dopo partita di Padova Ascoli, il famoso 3 a 2, che aveva fatto pensare per un momento che il Padova potesse addirittura essere in Serie A perché sembrava che da Cosenza arrivassero notizie confortanti, sembrava che Cosenza fosse passato in vantaggio sul Piacenza, invece era tutto il contrario. Simonini regalò il gol della vittoria della promozione al Piacenza e la vittoria del Padova per 3 a 2 dopo una partita drammatica dallo 0-2 al 3 a 2 col gol di Montrone all'ottantanovesimo fu una vittoria inutile perché con 47 punti il Padova rimase ancora in Serie B ma la festa fu rimandata di un anno. Ricordo bene nel cortile dell'antistadio della Piani, fra il Monti e la Piani, dove c'era l'uscita dagli spogliatoi, ricordo Sergio Giordani appoggiato con la testa al muro piangere, piangere a dirotto proprio per questa grandissima delusione, consolato dalla moglie Lucia, fu un'immagine molto bella, molto tenera che mi fece capire quanto grande era la passione di Sergio Giordani per il Padova e per questa sua creatura, creatura sua e ovviamente anche di Marino Pugina. E con Sergio poi ci siamo conosciuti meglio, lui ogni tanto veniva a Roma, ci vedevamo, veniva a casa mia, andiamo a cena assieme anche con la moglie e ricordo soprattutto un episodio legato al 1995 quando fu emessa la famosa sentenza Bosman, quella che garantiva la libera circolazione di tutti i giocatori comunitari all'interno delle squadre dell'Europa e poneva soltanto dei limiti per quanto riguardava gli extracomunitari. Questo fece pensare che ovviamente i vivai sarebbero stati svuotati di valore e ci sarebbe stata più facilità di acquisire ovviamente giocatori stranieri che quindi il valore di giocatori italiani che società come il Padova valorizzavano poi cedevano per far quadrare il bilancio sarebbe crollato e mi ricordo che quando fu convocata una riunione di Lega qui a Roma all'Hotel Hilton Sergio Giordani mi chiamò e mi disse guarda vengo giù poi ci vediamo magari ti do qualche informazione e andiamo a cena assieme e mi ricordo che lui uscì da questa riunione dicendomi quali erano state le decisioni della Lega e poi la sera andammo a cena assieme al Fogher, un ristorante vicino alla Federcaccio dove trovammo anche il presidente della Fiorentina Mario Cecchigori con la moglie e quella sera Sergio mi disse che praticamente aveva deciso di lasciare, di passare la mano perché non sarebbe stato più possibile mantenere in equilibrio il bilancio del Padova con questa nuova sentenza Bosman e tanto è vero che dopo pochi mesi mentre il Padova era ancora in corsa per una salvezza che era assolutamente possibile, lui passò la mano, la cedette la società a Cesarino Viganò con le conseguenze che tutti ricordiamo e purtroppo penso che se Sergio Giordani avesse riflettuto un po' di più forse non avrebbe ceduto la società in quel momento e forse il Padova sarebbe rimasto in Serie A un altro anno. L'ultimo ricordo che ho di Sergio Giordani è fresco di qualche giorno fa in piena clausura a causa Covid e mi arriva una telefonata, vedo Sergio Giordani, io da quando lui è sindaco non l'ho mai disturbato perché so che ha molte altre cose molto importanti da fare e quindi non volevo assolutamente creargli problemi e un giorno mi arriva questa telefonata e io dico buongiorno signor sindaco e lui non rendendosi conto con chi stava parlando dice allora guarda devi prendere una squadra e andare alla sala della Gran Guardia a sanificare tutto perché altrimenti ci rompono le scatere e allora gli faccio, signor sindaco mi sa che ha sbagliato numero e lui mi fa Daniele scusa mi ho sbagliato numero, ti chiamo in un altro momento. Ecco credo che ci vedremo presto perché io presto tornerò a Padova almeno per un po' di tempo e quindi avremo l'occasione di rivederci, di ricordare tanti ricordi, di ricordare tante cose legate al nostro Padova ma soprattutto al suo Padova.